La rassegna stampa è offerta da Pama Arredamenti, zona industriale, località Sant'Antuono, Polla, Salerno. Buongiorno, buon sabato e bentrovati all'appuntamento quotidiano con la rassegna stampa qui su Notv. Sfogliamo insieme le pagine dei principali quotidiani in edicola questa mattina. Cominciamo dalla prima pagina del mattino nazionale. Andiamo subito a vedere cosa troviamo in apertura. Trattori, il fronte si spacca, Meloni, taglio IRPEF ai redditi bassi, prima intesa, ma l'ala oltransista degli agricoltori dice no. Giustizia, ridotti mesi di tirocinio, giovani magistrati nei tribunali per rafforzare gli organici. Ci spostiamo al centro della pagina. Per la fotonotizia si parla di Sanremo. Mango giolier sfida Made in Sud, festival, ovazioni per cocciante vecchioni, stasera gran finale. Il napoletano parlato che batte la grammatica, dai fiori ai piedi nudi, vince il Fanta Sanremo. E ancora di taglio laterale, mio padre ucciso a Napoli 38 anni fa, giustizia è fatta. Agente freddato durante una rapina, presi killer. La figlia vidi i ladri e lo chiamai. Era la cosa giusta. Ancora sempre di taglio laterale per quanto riguarda la campagna, abbiamo loghi istituzionali anti-autonomia nella bufera Anci e Regione. E ancora la mamma di Gio Gio pronta a candidarsi alle europee. Ci spostiamo di spalla per l'analisi. Le troppe anime che fiaccano la protesta. Punto di Vespa se la vera battaglia si combatte in Europa. Ci spostiamo adesso di taglio basso. Andiamo a vedere che si parla della guerra in Medio Oriente. Evacuare i civili da Rafa. Israele ordina l'ira degli USA. Netanyahu li quattro battaglioni di Hamas. E ancora per quanto riguarda lo scenario, riflettori sul Cairo, ma via della pace sempre più stretta. Questi titoli che troviamo sulla prima del mattino nazionale che lasciamo. Adesso ci spostiamo sulle pagine dedicate al primo piano e andiamo a vedere che qui si parla della protesta dei coltivatori. Leggiamo il titolo. Meloni, taglio IRPEF ai redditi bassi. Agricoltori spaccati. Ricevute le sigle della categoria. Lollobrigida, esenzioni per il 90%. Tensione, Lega, Fratelli d'Italia e Salvini. Alza il tiro, si può fare di più. E ancora andiamo a leggere. A Palazzo Chigi, il vertice convocato dal premier, in Europa vi abbiamo sempre difeso. Poi c'è la mediazione del ministro, incontro con i leader del movimento riscatto agricolo al di Castero. Trafiletto sulla vicenda, l'inizio delle proteste, l'assalto a Bruxelles e l'arrivo dei trattori a Roma. Di taglio basso invece per le reazioni. L'ala oltransista rifiuta la tregua. Non molliamo, invaderemo le città. I delusi. Andremo al Circo Massimo e saremo tantissimi. La lite in strada con l'associazione rivale. Proseguiamo, lasciamo questa pagina. Continuiamo sul mattino nazionale, ancora sulle pagine dedicate al primo piano. E andiamo a proseguire su questo argomento. Qui la sfilata in centro, vediamo anche la foto, è il titolo. I trattori non bloccano Roma, la capitale va rispettata. La marcia degli agricoltori contro l'Europa matrigna prevale la linea soft, niente barricate, sfilano solo in quattro. Sulla Nomentana si accampano altri 500 mezzi, l'accoglienza dei romani, ma liberate le strade. Vediamo anche. La rabbia dei forconi per la protesta ridimensionata, il capostorico ferro, dovevamo prenderci la città. La curiosità dei turisti a passeggio, pittoresco, e nel centro si maledicono Buche e San Pietrini. Di taglio basso, invece, per quanto riguarda il caso, è l'olobrigida, va dai manifestanti. Michele, 18 anni, in lacrime, aiutaci. Il ministro a cena tra gli stand, il giovane, ho lasciato la scuola per fare questo lavoro. E lasciamo anche questa pagina. Siamo ancora sul mattino nazionale e sulle pagine dedicate al primo piano. Andiamo a vedere cosa troviamo nella pagina successiva, quella che abbiamo appena visto. E qui si parla della vetrina più ambita, perché c'è l'accordo con Sanremo, appello letto da Amadeus. E ora torniamo a casa. Viale Mazzini nega il palco agli agricoltori, manca un leader che parli a nome di tutti. Il messaggio, si riconosca il giusto valore e i nostri prodotti oggi sono sottopagati. Ancora. La di Sergio. Si fanno troppe polemiche, invece, di dare spazio agli aspetti musicali e sociali. Poi abbiamo il trafiletto con il caso. Bandecchi, già si ricandida, sarò sindaco di Terni. Di taglio basso, invece, per la polemica. Travolta, la RAI pensa alle vie legali per lo spot occulto delle sneakers. Nel contratto si è impegnato a non promuovere marchi. L'attacco di Gasparri. C'è chi non ha vigilato. E lasciamo anche questa pagina. Proseguiamo. Siamo ancora sul mattino nazionale. Ancora sulle pagine dedicate, in questo caso, ai temi dell'economia. Con le misure economiche. Vediamo il titolo. Regioni salgono i fondi. Aiuti alle giovani coppie. Mille proroghe per i governatori. Sconto di 45 milioni ai tagli della spending review. Agevolazioni per acquistare la prima casa. Niente imposta di registro e mutui più bassi. Al centro, il grafico con le novità del mille proroghe. E poi, leggiamo ancora, gli emendamenti dei relatori di maggioranza sono stati depositati alla Camera. Risorse e meno burocrazia per le aree colpite dal terremoto, confermati i vertici del GSE. Di taglio basso vediamo gli altri interventi. Salute. Altri 10 milioni per combattere disturbi alimentari. In Italia ci sono 3 milioni di persone che soffrono di patologie legate a bulimia, anoressia e vigoressia. Per il fisco, taglio delle sanzioni sulle tasse e proroga per la rottamazione. Su quanto non versato, all'Agenzia delle Entrate nel 2022 si potrà pagare solo un diciottesimo della multa prevista. Per quanto riguarda il sociale, nuovi aiuti al cinema per i disabili incentivi legati alle assunzioni. Si potranno usare le risorse del Fondo Unico dello Spettacolo da 420 milioni che non sono state spese lo scorso anno. Proseguiamo, lasciamo questa pagina ancora sul mattino nazionale perché oggi ricorre un importante anniversario e dunque vediamo che ci sono le parole del Presidente della Repubblica, Mattarella, che ricorda le foibe. Pagine buie della storia che sembrano riproporsi. La cerimonia al Quirinale fu il nostro muro di Berlino, ora l'antidoto è la UE. L'omaggio agli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia. Il premier oggi a Trieste. Ancora. Il capo dello Stato, i tentativi di oblio o di negazione sono un affronto alle vittime e alle loro famiglie. Alla centro la foto con l'incontro con Egea, l'ex bambina simbolo, vedete la foto Esole Giuliana. Mentre per quanto riguarda il trafiletto dedicato al personaggio, Sgarbi vede Meloni, mi sono dimesso. Di taglio basso, andiamo a leggere per quanto riguarda il caso, arriva la legge sul modello israeliano, 10.000 riservisti per difendere l'Italia. La proposta della Lega, che piace anche a Crosetto, ex militari pronti in 48 ore in caso di minaccia. E lasciamo questa pagina. Proseguiamo, adesso andiamo a vedere la prima pagina del mattino di Salerno. Andiamo in apertura per leggere il titolo sul caso. Commissariato il greggio, la decisione di Bellandi, criticità e divisioni interne nell'Associazione di Fedeli. Il presule su indicazione del Vaticano auspica un trasparente inserimento nella vita diocesana. Ancora la scelta del Papa a Firenze, il vescovo tra i candidati alla successione del Cardinale Betori. Ci spostiamo di taglio alto, perché si parla di sport con la fotonotizia la Salernitana a Capolinea. È la notte del tracollo in Zaghi verso l'Esonero. Io primo responsabile Salernitana KO nella sfida con Lempoli 1 a 3. Salvezza sempre più lontana. Dopo la sconfitta, Iervolino riflette e Sabatini si scusa con i tifosi. Il commento, una squadra senza il sangue agli occhi. Le pagelle di A solo un tiro, flop Pellegrino e Boateng non regala il bis. Di taglio centrale, torniamo per vedere che per quanto riguarda l'economia si parla della crisi dei negozi, lo freddo o fare rete per essere attrattivi. Per quanto riguarda la scuola, anziani malati vessati sempre più prof in fuga. Di taglio basso, Salerno Capitale, l'inizio della democrazia. L'intervista a Nicola Oddati, lo storico Unisa, ricordi il ruolo di Cuomo. Questi titoli che troviamo sulla prima pagina del mattino di Salerno, che lasciamo adesso ci spostiamo sulla prima pagina del quotidiano, le cronache di Salerno. Andiamo a vedere in apertura di taglio alto, sotto la testata, anche qui c'è lo sport con il crollo della Salernitana. In zaghi, guai ai vinti, l'Empolis banca 3 a 1, tecnico in confusione, regala un tempo ai toscani. E ora di cambiare, nessuno dei trainer contattati accetta un contratto di 5 mesi, ballardini e semplici, a meno che sabatini. Di taglio laterale, il Papuocchio, Iervolino come schettino, la Salernitana affonda e va via prima della fine. Mentre, di taglio laterale ancora, Cascone conferma, a marzo sospeso il servizio metro per rimuovere il semaforo. Centro-destra, l'attacco via il logo della Regione dall'iniziativa di De Luca, anche l'Anci nella bufera. Mentre, torniamo al centro della pagina, il fatto, rivincita di Pierro, l'arcivescovo commissaria Il Gregge, al centro delle divisioni in diocesi. Per quanto riguarda invece l'intervista, Piazza Grande, De Luca Junior, compatti per dare manforte al nostro Mezzogiorno d'Italia. Torniamo di taglio laterale per quanto riguarda la nota, Amadeus e Salerno, mentre da Scafati picchia la fidanzata e la minaccia di morte preso l'imprenditore Pasquale Aiello. Ancora, andiamo a leggere, non sembra un vantaggio l'apertura del Maximo, l'ancora di taglio laterale. Questi i titoli che troviamo sulla prima pagina del quotidiano, le cronache. Adesso ci fermiamo per un po' di consigli per i vostri acquisti e ci ritroviamo tra poco. Bentornati in studio, proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Torniamo sulle pagine del mattino di Salerno. Andiamo a leggere la pagina dedicata all'economia e alla crisi. Vediamo il titolo. Le catombe dei negozi, lo freddo facciamo rete per essere più attrattivi. L'assessore al commercio, le attività di vicinato sono anche un presidio sociale. Caro affitti, il Comune può chiedere ai privati di applicare contratti a scalare. E ancora, leggiamo, sabatino senatore, abbiamo perso i clienti che venivano dalla provincia. Ora occorre un osservatorio. Per quanto riguarda l'articolo, andiamo a vedere brevemente. L'impegno del Comune affinché si faccia sempre più rete tra associazioni di categoria, Camera di Commercio e commercianti è perché ci siano più iniziative in grado di attrarre sul territorio comunale più persone. L'assessore al commercio del Comune di Salerno, Dario Loffredo, analizza i dati dell'ufficio studi Confcommercio sulla demografia di impresa nella città italiana, effettuata in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di Commercio, Guglielmo Tagliacarne, da cui emerge che tra il 2012 e il giugno dello scorso anno nella città di Salerno sono sparite, ricordava ieri sulle colonne di questo giornale il presidente di Confcommercio Salerno, Giovanni Marone, 509 imprese del commercio al dettaglio, mentre si registra un aumento di 141 attività di alberghi, bar e ristoranti. Ci spostiamo adesso di taglio centrale, vediamo che per quanto riguarda l'ambiente, rifiuti promossi i nuovi servizi di Salerno Pulita, il sondaggio attraverso l'app Junker bene la raccolta mobile, ma lo spazzamento lascia insoddisfatti. Di taglio basso c'è la cronaca con il Blitz, la titante internazionale catturato nella Piana del Sele. Arrestato la titante internazionale ad eseguire il mandato di arresto europeo nei confronti di un cittadino marocchino, sono stati gli agenti della squadra mobile in collaborazione con i colleghi dell'ufficio immigrazione della questura di Salerno. Il cinquantenne deve espiare una condanna di due anni di reclusione emessa nel 2021 dalla tribunale francese di Montpellier per ricettazione e banda organizzata essendo inserito in un contesto criminale di notevole importanza. Lasciamo questa pagina ma continuiamo a restare sul mattino di Salerno e andiamo a vedere adesso il caso La Fede. Questo è l'argomento di questa pagina, il titolo il greggio commissariato Bellandi ora collaboriamo per il bene dell'associazione. La decisione del prelato riscontrate diverse criticità e divisioni interne. L'organizzazione sotto esame del 2017 purificare tratti della storia pregressa. La Santa Sede invita a chiarire la natura autenticamente ecclesiale dell'associazione. Vediamo anche l'articolo. L'arcivescovo Andrea Bellandi firma ieri un decreto con il quale commissaria l'associazione privata di fedeli opera del greggio del bambino Gesù costituitasi nel 1939 è fondata sull'esperienza spirituale della signora Caterina Tramontano scomparsa nel 1996. L'associazione di cui fanno parte molti sacerdoti e laici dell'arcidiocesi di Salerno Campagna Cerno è stata affidata al commissario monsignor Erasmo Napolitano, sacerdote del clero della diocesi di Nola e vicario giudiziale di diversi tribunali ecclesiastici. Sono stati poi nominati i vice commissari monsignor Pasquale Silvestri dell'arcidiocesi di Napoli, vicario aggiunto del tribunale ecclesiastico interdiocesano partenopeo e don Antonio Russo, sacerdote della diocesi di Milano Nicotera Tropea, giudice del tribunale ecclesiastico interdiocesano Calabro. Vediamo il trafiletto, qui abbiamo lo scenario, la rottura con Pierro, prestate obbedienza, mentre di taglio basso per quanto riguarda le scelte, Betori in pensione a Firenze e l'arcivescovo nel Totonomine. Ci sarebbe anche il nome del capo della chiesa salernitana sul tavolo del Papa, ritornerebbe a casa. E lasciamo questa pagina ma continuiamo a restare sul mattino di Salerno perché andiamo a leggere la pagina dedicata al territorio della Piana del Sele, Picentini, Cilento e Vallo di Diano. In apertura c'è la cronaca, vediamo il titolo. Finti corsi formativi introiti per 57 milioni, indagate 268 persone. Chiusa l'inchiesta dei finanzieri, 200 le aziende controllate, l'ipotesi credito d'imposta ottenuto con false attestazioni. Siamo a Vallo della Lucania, finti corsi di formazione, la procura di Vallo conclude una indagine per 268 persone. Il lavoro della Guardia di Finanza di Agropoli tra il 2020 e il 2021 racchiude a seconda dei ruoli accuse quali associazione a delinquere, indebita compensazione di crediti d'imposta, falso e autoriciclaggio. Per l'accusa il meccanismo si basava su crediti inesistenti ottenuti grazie a false attestazioni di formazione di personale dipendente. Da Capaccio Pestum comunali furbetti caso archiviato. Di taglio laterale invece abbiamo da Vallo della Lucania, Cilentana, tempi certi per riaprirla, troppi disagi. Cilentana dopo 50 anni la provincia vince la sua battaglia legale. La Corte di Cassazione ha posto fine alla nostra vicenda relativa ai corrispettivi per la costruzione della strada risalente agli anni 70. L'impresa esecutrice Rozzi con contenzioso intentato dinanzi al Tribunale di Salerno nel 2001 reclamava oltre 18 milioni di euro in dipendenza dei contratti dal 1974 in poi nei quali era risultata aggiudicata aria per la costruzione della strada. Al centro da Battipaglia Spinelli, commissario azzurro, palo per Italia Viva. Ancora di taglio laterale da Vallo della Lucania, allarme furti, collaborare con le forze dell'ordine. Di taglio basso invece abbiamo due notizie. Da Polla sale operatorie, pronto soccorso e reparti ok ai lavori da 5 milioni all'ospedale Curto. 5 milioni di euro per l'ospedale Luigi Curto di Polla. Si tratta della somma prevista nella proposta di accordo tra Governo e Regione Campania. La somma 3,7 milioni a carico dello Stato e 1,3 milioni a carico della Regione servirà per mettere in atto le opere di adeguamento sismico e adeguamento delle sale operatorie dei reparti di gastroenterologia e pronto soccorso del nostro comio. Sono molto soddisfatto per i 5 milioni di euro destinati all'ospedale di Polla. Ho seguito personalmente con grande attenzione l'iter di questo finanziamento che considero di fondamentale importanza perché consentirà essenziali lavori strutturali in reparti nevralgici per il nostro comio valdianese. Queste le parole del consigliere regionale Corrado Matera. Da Ebol invece abbiamo consulta della cultura esecutivo al completo. Lasciamo questa pagina e con essa anche il mattino di Salerno. Adesso ci spostiamo sul quotidiano Le Cronache. Siamo ad Agropoli, vediamo il titolo. Giallo, rilevazioni sulla Cilentana, la determina parla di violazioni. Il sindaco aveva detto che tali videocamere potrebbero essere propedeutiche ad un altro eventuale autovelox. La decisione porta la firma del comandante della polizia locale Antonio Rinaldi. E ancora. L'atto parla chiaro, istruttoria autorizzativa all'installazione di dispositivi per violazioni di comportamento. C'è un altro giallo ad Agropoli, oltre a quello dei soldi dati ad associazioni riconducibili, già candidate che hanno dichiarato il falso sul proprio curriculum e ovviamente ci si riferisce ad Annalisa Siano e alla sua APS Testene, arriva un altro mistero in città. Focus della questione sono le parole dette dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi ad Info Cilento nella consueta rassegna stampa e quanto scritto dal comandante della polizia locale Antonio Rinaldi. Il primo a precisa domanda della responsabile del Tg Raffaella Giaccio ha risposto che le due videocamere installate sulla Cilentana servono solo a raccogliere dati da inviare alla prefettura di Salerno e che solo in futuro si deciderà se montare o meno un autovelox. Discorso molto diverso invece rispetto a quanto poi scritto da Rinaldi. Di taglio basso andiamo a vedere da Giungano. Lavoratori ex GF scavi se non saranno pagati le spettanze addiremo le vie legali. La sigla sindacale si dice ferma e convinta. I diritti dei lavoratori non possono essere ignorati o sacrificati. E lasciamo questa pagina ma siamo ancora sul quotidiano le cronache di Salerno. Andiamo a vedere cosa troviamo in questa pagina. L'argomento principale al centro siamo ancora ad Agropoli. Si parla di carnevale tra dubbi e problematiche. Gli esercenti ora lamentano una scarsa programmazione ed eventi fin troppo circoscritti in poche aree della città. È tutto pronto per gli eventi dell'edizione 2024. Sfilate, corrida e piano traffico. Ancora. Nei giorni scorsi c'è stata una riunione in comune con i commercianti. Finalmente è arrivato anche quest'anno il carnevale. Erano in dubbio i festeggiamenti ma ci ha pensato l'assessore al turismo Roberto Apicella ad allontanare dubbi. Lo fece in un momento in cui era doveroso evitare dato che la città piangeva ben due morti in quella che è stata tra le più grandi tragedie della storia agropolese ma il prode amministratore ha abituato gli agropolesi a tali scivoloni. La sfilata e tutti gli altri eventi si faranno ma il cammino per arrivare al via libera è stato impervio. Solo la rabbia dei commercianti ha fatto capitolare l'amministrazione e il comando della polizia locale che hanno deciso di non stravolgere il consueto programma della sfilata con arrivo in piazza. Ci spostiamo di taglio alto. Siamo a Padula, Vallo di Diano al via il progetto di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Una sfida che parte da lontano che ha avuto un'accelerata con il covid che porta a maggiore integrazione. È avvenuta ieri mattina a Padula la consegna dei kit digitalizzazioni ai 15 comuni che fanno parte della comunità montana Vallo di Diano. Francesco Cavallone, presidente e gli assessori Gaetano Spano e Antonio Pagliarulo hanno distribuito ai sindaci computer stampanti attrezzature per videoconferenze e software ai colleghi. L'intervento è stato reso possibile da un finanziamento a valere sulla strategia nazionale delle aree interne. Ci spostiamo adesso di taglio basso. Torniamo ad Agropoli, asilo nido a posa della prima pietra per la struttura. L'assessore D'Arienzo dice si tratta di un bel passo in avanti per un settore in cui la richiesta è sempre più crescente. E lasciamo questa pagina. È tutto per l'appuntamento di oggi con la nostra rassegna stampa. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi invito a continuare a restare con noi augurandovi un'ottima giornata.